10 ordinanze di custodia cautelare di cui 6 in carcere e 4 misure di obbligo di dimora con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutte rivolte nei confronti di altrettanti albanesi e il bilancio dell'operazione denominata Elio, svolta dal reparto operativo dei carabinieri di Teramo e coordinata dal PM Andrea De Feis, che ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina per un valore sul mercato di 500 mila euro. Si tratta di un'importante indagine effettuata dalla procura di Teramo con la valida e incombiabile opera dell'arma dei carabinieri di Teramo e del nucleo operativo che ha portato alla emissione di 10 misure custodiali nei confronti di 10 appartenenti all'etnia albanese per traffici rilevanti di cocaina. Le persone erano già conosciute le forze dell'ordine? Stiamo parlando di persone con elevata pericolosità sociale che già erano state più volte denunciate anche per spaccio di sostanze stupefacenti e che hanno dimostrato attraverso gli accertamenti che si sono sviluppati nel corso dei mesi una notevole pericolosità sociale con sistematici spacci non solo nel Teramo ma nell'Interland tra persone anche di ambienti, di notevole possibilità economica. Questa operazione è conclusa oppure ci sono indagini ancora in corso? Sicuramente come tutte le operazioni da una poi dopo ne vengono sviluppate altre quindi noi sempre con la collaborazione e il sostanziale apporto della Procura faremo ulteriori riscontri anche da tutti gli indizi che abbiamo trovato nella mattinata e sicuramente non escludo che ci possano essere anche ulteriori risvolti futuri. Nel corso dell'operazione che si avvalsa anche di intercettazioni e pedinamenti alcuni degli indagati sono stati ripresi mentre spacciavano in presenza dei figli di 2 e 3 anni.